della signora Santina andava a cendallora per venire la melania ma che fai? Giro! ma c'è la marcia indietro pure si è attrezzata bene che facciamo giriamo per tutta la puntata? come pure dai 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 dai, ferma si mette fermo un attimo l'aspetta che mi sta facendo girare la testa si ferma un attimo si fermi e che c'ha pure il bastone no, questo, Robby che cos'è? tu hai un bastone biglietto la ortopedia sanitaria catenese troviamo tutte le cose ma suona pure? si, si, dai e che è sto? un clac, un clac suono come va la signora, bene? bene, bene, come tu si, ho visto, ho visto e frena subito signora ti metti il titarele si, che devo fare? stai a cuotarele, che ti scaccio no, ma che cosa? anche qui con me, qui ma dove? anche qui sopra ma non ci entro se si rompe, signora, guardi no, non ci rompe no, perché il ristellino è a punta se si rompe senti, che siano io stasera e siamo ormai alla fine della trasmissione che è? ti ho fatto tanto male mi ha fatto male, si però volevo recuperare meno male, hai visto? ogni tanto fa una mia bubba aspetta, bevuto, bevuto, eh? si ci ha le ciomacce, vedete? si aspetta, bevuto, un spettacato, eh? no, no monaca mi devo preoccupare? no, no, no ma che cos'è? ma no ma che cos'è questa? no, niente, poco male ma che è una ginocchiera? si, mettiamelo no, 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 no no, no, stai a stare fermo eh, tanti regali ti ho fatto tanti regali mi posso sedere? siediti, siediti mi siediti no, questo ginocchio questa ginocchia? questo? così che bel buco che c'è il ginocchio buono ma che deve fare? no, signora, non mi faccia preoccupare lei non è che... no, non ti preoccupare no, ma se lo ricordo scendi scendi ti piace? si eh monaca non è che mi... ok c'è un regalo c'è un regalo ma che regali sono, scusi? gibo, gibo gibo ma che cos'è una fascia elastica? un busto io ma che cosa... ma che devo fare col busto io? tu vuoi, tanti fermo che bello mamma mia che è il pacco giochi? mamma dovremmo... ok ma ne va ancora? ti puoi mettere un menù del mio telefono qua? ma che cos'è? ma che mi stai ingessando? ma che cos'è questo? ma dove le ha prese tutte queste cose? ma è un busto? si, si, è un busto, busto aspetta eh, però ognuniremo potrebbero magari aiutare mirati i cosi che devo fare? aspetta 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 ma chi è? nella testa? no non si mette nella testa? che si è? le spalle deve la mettere fermo che stiano che mi impiegano i bretelli ok ma voi rite pure nelle spalle cioè che suggerite? fermo ma che è? si da la rota così oh oh ah 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 ok fermo 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 da sotto da sotto qua oh di che si? eh sotto i scili ti devi passare così io me la mi posso muovere grazie ma non è che chiudiamo è così va bene ma si rende conto di come mi sta facendo? non è che chiudiamo ma non è che chiudiamo non è che chiudiamo guardate è nuova nuova ma che fa? è interato in un coppio un decadino a zero coni vieni qua ma che questa cosa sai usare ma che devo fare? sotto la scilla ma così ma 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 io non ci posso creare ma 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 che cos'è questo? il collare ma non ho avuto il colpo della strega io e te ma si ma si ma mi amano ma mi ma mi mi amano chi sei? ma mi spiro non si fanno indi non si muove ma io sto impiegando stasera quando mi è venuto a dire il minuto ma che stava morendo caro spiro non respiro non respiro vabbè 12 minuti e poi finisce tutto aspetta te lo laggo un po' si lo laggo grazie ma perché mi ha combinato così mi spiega no Cristiano così tu ti senti a casa ti senti accolta ma che vuol dire mi sento accolta? tu ti devi sentire come una donna ma io sono un uomo se vuole un uomo aspetta ma sono un uomo se lo ricordi se vuole un uomo se vuole un uomo se vuole un uomo si vuole un uomo ma scusate chi gli ha dato tutto questo materiale che suggerite come si mette ah se vi rendete conto il pubblico è messo l'accordo i nostri amici di ortopedia sanitaria catenese che ti vogliono bene si dici siccome tu non ci vai mai a trovarli allora ti hanno fatto il re guarda va si il re di che cosa? il re di tutti i presidi medici possibili e magistrati meno male guardate vado direttamente all'ortopedia vabbè ma che modelli ne ho messo oggi ma che cose sono queste cose? ma che sono queste put*** sono le sue ma la squadra non può 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 mamma mia aspetta che si mette in casa scusa stai ferma così stai tornando dove stai andando minuti andiamo a farla come studi queste cose queste stai tornando stai tornando ma secondo voi è no a botta a botta a botta a botta signora sì ma io dico spada ma aiutami ma ti rendi conto che programma devo fare ma vi rendete conto in che condizioni devo condurre un programma io dove è finita? mi date la telecamera nei corridoi nei camerini applauso 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 ma aiutami c'hai caduto con la camera per me mi raccomando marcia mia caro sei la più bella puntata della mia vita questa è mamma mia ho un vero deciso ammazza io penso per dire se ci mettessero ben toccato piccolino così pare un stemmino che lo devo dare tu vuoi fare un giro un robbettino? sale sale ma Cristiano chi ci succede qua Cristiano? Cristiano sta soppiati? sta soppiati? davvero? ti piegai un pere? ti piegati? aspetta vedremo se hanno i scappottopetichi ci piegai un pere? non ce la faccio più Monica non ne posso più non ne posso più guarda la paniera con la sacca di ramatta non riesco a lasciarmi il scappotto per tutta la sacca cucchissimo a capo canciofo e a tottignone su coppettico la russa gente che non si può muovere vedi? c'è una caranezza ma c'è un fucusè un fucusè Cristiano mi fa scandare quando farà così veramente Cristiano Cristiano ci vuole più davvero non ne sceglie non ne sceglie non ne sceglie non ne sceglie alla che cos'è che passo le sceglie no no dobbiamo dobbiamo chiamare Sara dobbiamo chiudere la puntata anche perché ci vuole un po' di ghiaccio ci vuole un po' di ghiaccio non si preoccupi non si preoccupi ci vediamo dopo Sara vieni vieni bella puntata quella di oggi eh Filippo ma che ti hanno lasciato ma che ti hanno lasciato ma mi spieghi che stava succedendo lì Filippo ma che stavi cercando senti piano si sarebbe Filippo ma noi erano sta minchia da faccia Filippo Filippo hanno fatto bene grazie grazie